Ritrovarsi improvvisamente in 24 ore 20 bambini che nascono è stata una sorpresa. Noi abbiamo una media di tre parti al giorno. Ritrovarsene 20 è stata davvero una gioia che ha portato tanto lavoro. 20 bambini venuti alla luce in sole 24 ore all'ospedale San Donato di Arezzo. Tra il 5 e il 6 novembre si è registrato infatti un vero e proprio record di parti. Siamo tantissime. Il boom di Nati. Sono state ore frenetiche dove veramente non sapevamo neanche come cambiare le sale parto per far da spazio altre pazienti a partorire. Quindi insomma da parte mia un plauso va veramente a tutto il personale perché in questi casi è veramente l'equip che riesce a far sì che tutto vada bene, che riescono a coordinarsi e tutti a fare quel qualcosina in più che non gli è dovuto ma che lo fa per l'amore proprio di fare questo lavoro. I piccoli fra cui anche i due gemelli e le madri stanno bene e dentro pochi giorni faranno ritorno nelle loro abitazioni. Dopo che hanno fatto lo screening neonatale i bambini tornano a casa insieme alle loro mamme. Un buon auspicio per la ripresa della natalità è in forte declino sia in Italia che in Toscana. Uno dei problemi più grossi che registriamo in Italia è alla base di tutti i problemi sociali ed economici che abbiamo perché se non puntiamo sulle nascite veramente vuol dire che non abbiamo un progetto sul futuro. Nel 2023 i perti all'ospedale San Donato di Arezzo sono stati 1.448, 40 in più rispetto all'anno precedente. e quindi questo ci fa sperare che sia un trend che si sia invertito.